ciao ragazzi ciao a tutti sono Sleekcheep e oggi siamo qui nello spacchettamento dei poveri vediamo un po' se riusciamo a non fare il video di meno di un minuto oddio la specchio oddio andiamo qui apriamo il vaule questo se ci da le epiche cogliamo un cazzo top epiche fino adesso è strano se no ce le andiamo anche qui vediamo un po' apriamo il magico pezzo forte oddio niente apriamo questo niente 562 apriamo niente oddio eh dai siamo a 50 secondi è già un miracolo abbiamo lui però non lo possiamo comprare purtroppo perché manteniamo i soldi sulla paypal quindi vediamo un po' ok mettiamo poste ecco ecco facciamo una battaglia quante mi mancano quattorsi ok facciamo una battaglia la perderemo la perderemo malamente perché c'è lo script contro da due giorni quindi siamo contro all'akbar costiamo costiamo il coso ok ok non serve niente che tanto utilizzare i propri scelti e invece non buti i propri scelti mori oddio il mago che rimane con neanche vita perché chiamare la vita sarebbe un insulto mago p mago p mago p e' un'altra valkyrie e' un'altra valkyrie e' invece no bene dove non ci arriveranno torre ce ne abbiamo ancora fatto danno cioè danno l'abbiamo fatto però non così tanto tengo il tronchi e' un'altra valkyrie e' un'altra valkyrie dunque adesso possiamo riattaccare perchè abbiamo di nuovo il domi il domi la moto dai a molti che non la metto neanche sottofondo che c'e' già questa quindi sarebbe del tutto inutile fail e pico ha fatto sottofetto aspetto e' dai crepa bene e' vantaggio lui a me piace vincere facile perchè questa gente qui ta' ah ah grazie e ti auguro buona fortuna e' volevi vi ringrazio della visione e noi ci rivediamo al prossimo video oh 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 oh